Ci sono certi che sono di sesso diverso, che non si amano tanto come certi che sono di sesso uguale. Il desiderio più grande da incontrare una persona è stare con quella persona. Una persona a cui so di poter affidare la mia vita. Se si vogliono bene, si fa di tutto, per quello che si vuole bene. Io semplicemente gli ho detto, mamma, quello che tu fai con papà, è la stessa cosa. Ma è stato un bacio, solo un bacio. Un terremoto praticamente per me è stato. L'errore è negli occhi di chi guarda e non in me. A mio punto la paura è che non sia fondamentalmente omosessuale e che a un momento o a un altro mi ritrovo amore di un uomo. E il mondo è pieno di persone a cui io posso amare. E per qualche motivo la che mi soddisfa più è qui. Dio è amore, per il fine. E con le persone che non amo a tutto il mondo. E che ci fanno male a noi. Sì, felicità per noi. Sì, felicità per noi.